Speed Race, l'ABC dell'energy drinking il colpente che è stato diventato inizialmente, in cui ha dato un formato più diverso al colpente qua, come è bello lì si sembra il tempo è molto speciale il tempo è molto speciale il tempo è molto speciale l'ultima volta che ieri sarà poi c'è un giorno e un giorno e un giorno e un giorno ieri avevamo legato la palla di Ducati e oggi alla ECA è incredibile per questo la nuova di Ducati e poi con Ducati hai un rapporto speciale perché qui quando ti chiamano vai fai bene quest'anno è stato un anno bellissimo difficile da inizio ma bello e l'anno prossimo io ho già detto che vuoi cominciare bene e vuoi fare come il caso il secondo il primo il primo il primo è un giusto per te No, veramente, la mamma di questo. Senti, hai fatto qualche anno difficile sottosti, ma sei toccato in Italia, in Italia. C'è il mondo, noi viviamo noi qui, viviamo! Sì, è un po' no, sicuro. E' un po' no, per arrivare anche la prima vittoria, forse, no? Cioè, sicuro, lo prometto, questo. Eh, sì, sicuro. Sicuro è l'obiettivo, no? Oggi è la prima giornata. Sì, sicuro, è l'obiettivo, è l'obiettivo, è l'obiettivo. Eh, sì. Ma che venti, poi, magari, allora. Senti, mi sono andata, siamo partiti, sono. Partiti, oggi abbiamo parlato di tua moglie, che piace molto il fans, perché è molto assentatica. Vieni più spesso, potrai vedere più spesso davanti alle telecamere, perché ci sono già un sacco di tifosi. Hai visto quanti autografi, ho filmato? Ma la gente ti vuole bene, te lo aspettavi questo? Sì. Sì, noi ti ringraziamo, ti lasciamo a fare il . All'Ecma, grazie ancora, grazie, sì, bene.